Adesso finalmente ci divertiamo un po' perché parliamo di gusto e sapori, ma soprattutto di grandi prodotti legati al nostro territorio. Naturalmente a questo punto le parole viaggiano in secondo piano perché davanti a me ho veramente dei prodotti straordinari. Cominceremo col parlare di sfumanti, di grappe e naturalmente di quei prodotti che vedete qui esposti che vanno a coniugarsi in maniera perfetta. Intanto c'è una differenziazione importante Fabio, il fatto di essere conservata in acciaio o in legno. Questo restituisce al prodotto un sapore completamente diverso. Allora un brindisi, grazie, grazie di cuore. Allora ci vediamo la stagione prossima. Fabio Mecca e Nicola Cosentino delle Cantine Buona Parte, grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie soprattutto per averci dato delle informazioni così divertenti. Complimenti però, è buonissimo. Grazie, grazie a voi.